sei dal vivo raga si è interrotto si è interrotta la metà che youtube si è interrotto e non ha potuto fare un cavolo spero che adesso non si interrompa perché a me dispiace comunque quando io cerco di affrontare un argomento piacerebbe portarlo a termine non c'era nulla di preparato ciao ezio che bello vederti ciao 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 fatemi fatemi sentire fatemi sapere se mi sentite bene se mi sentite bene non fate caso lo sfondo che fa abbastanza schifo ma una cosa così improvvisata quindi datemi un cenno di vita cioè si sente bene ok perfetto tu perché curiosity ciao ok avevo visto anche prima alessandro ciao alessandro alessandro morolla morollo e anche la visuale è ottimo ok matteo ciao 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 alessandro se vuoi torna perché fa piacere salutarti no va bene anche a scatti quindi top ma mi vedete a scatti o alzi ciao ezio sentiamo forte e chiaro mi vedete anche in continuo oppure a scatti buonasera lezio piacere perché sono in 4g quindi dovrei avere una copertura ottima il camminare ciao 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 ragazzi io parto subito con una poi magari se no poi perdiamo il filo andiamo avanti troppo con i saluti poi ci salutiamo magari dopo allora parto subito con questa con una domanda sul non sull'ultimo sul penultimo video che avevo fatto praticamente che camminavo eccetera eccetera ciao ciao ci senti domandini le cose dopo allora ericitten 1986 se non sbaglio mi ha fatto un commento mi ha risposto io cammino per quanto riguarda il dimagrimento quanto riguarda il dimagrimento io cammino e ho ottenuto ottimi risultati quindi camminare perché io parlavo che parlavo di questo che la camminata sì però se vogliamo dimagrire belli tonici duri tosti quindi con delle buone masse muscolari avere un buon tono muscolare dicevo che appunto la camminata se ci può aiutare ma è meglio l'approccio con i pesi e questa ragazza mi diceva sì però la io ho ottenuto i risultati di dimagrimento li ho ottenuti solo esclusivamente camminando io gli ho risposto allora fai un esame plicometrico quindi controlla la tua la tua percentuale di grasso per chi non lo sapesse fai un esame plicometrico e poi una prova forza barra resistenza quindi questo cosa vuol dire cosa c'è scritto cosa cosa vuol dire questa risposta che va benissimo la camminata ci fa dimagrire di base c'è sempre un dispendio maggiore quindi non creare un deficit calorico se parliamo di alimentazione la prima cosa è creare un deficit calorico per quanto riguarda dimagrimento l'alimentazione alla base quindi dobbiamo creare un deficit consumare praticamente consumare più calorie di quelle che introduciamo è ovvio che se noi camminiamo qualsiasi attività andiamo a svolgere e andiamo a svolgere è chiaro che dimagriremo dimagriamo come avevo detto in quel video se rimaniamo seduti su un divano è chiaro che è meglio fare qualcosa meglio muoversi quindi già l'attivare l'apparato muscolo scheletrico l'apparato cardiocircolatorio è ovvio che ci implica un consumo calorico maggiore di conseguenza al fine del dimagrimento è ottimo va bene però appunto per quanto riguarda la la tonicità che se dimagrisce però facevo un dopo le domande però facevo un un discorso per quanto riguarda per quanto riguarda appunto il tonificarsi bene perché si con la camminata la corsa si dimagrisce ma si dimagrisce molli quindi dobbiamo utilizzare i pesi ci possiamo allenare a casa ci possiamo allenare in palestra però l'utilizzo dei pesi è fondamentale il muscolo dal contratto le contrazioni se poi noi camminiamo lavoriamo soltanto col terreno inferiore ok quindi abbiamo bisogno di allenare tutto il corpo e purtroppo l'unica soluzione ma non lo dico soltanto io è scientifica la cosa l'unica soluzione è utilizzare pesi che siano pesini manubri quel che l'è però questo è la base il muscolo si deve contrarre quindi devo fare delle contrazioni che abbia un elastico se devo fare questo se cammino faccio questo movimento quindi muovo le braccia se va bene e poi comunque cosa succede che lavoro con il treno inferiore poi se cammino una certa andatura cioè devo andare veloce devo portare a casa una certa media nel range di un'ora devo fare 6 6 chilometri e mezzo almeno allora ho fatto ho svolto la camminata sportiva ok altrimenti passeggiare e quando andiamo fuori passeggiamo ok chiuso alimentazione lo sappiamo per ottenere un massimo un buon dimendimento ma anche poi adesso ci arriviamo un aumento del massimo muscolare palestra quindi pesini elastici quello che è però palestra poi quando siamo in palestra perché mi avete chiesto mi dai qualche consiglio qualche consiglino eccetera io ho visto ragazzi ho visto un ragazzo su instagram che si un allenamento di due ore di tre ore un allenamento di tre ore cioè è una roba allucinante dopo un po andiamo in catabolismo quindi in palestra cerchiamo di rimanere teniamoci l'orologio tra una serie e l'altra un minuto di recupero e non è perché noi stiamo più tempo in palestra otterremo più risultati alessandro grande ciao alessandro consigli per iniziare ad allenarsi adesso ci arriviamo ok ciao alessandro allora quindi è poco breve intenso ma dobbiamo dare il massimo ok consiglio strano non ricordo chi sei consigli per cominciare ad allenarsi innanzitutto bisogna vedere l'età non c'è età per iniziare ad allenarsi però come stavo dicendo prima dobbiamo ripeto non fate caso quello che vedete dietro dobbiamo cercare di innanzitutto eseguire gli esercizi in maniera perfetta non usare pesoni perché in palestra vedo per le persone ragazzi che usano pesi alla grande carico carico ma poi l'esercizio viene fatto male strippi di nuovo di qua di là non va bene non va bene non ci siamo come si sviluppano i bicipiti non ci siamo quindi gli allenamenti vanno corti sono fatti corti e intensi 5 ripetizioni 6 ripetizioni 8 10 al massimo un minuto di recupero poi si riprende ok 3 4 serie ok 3 4 serie per 8 10 ripetizioni finito lì cinque minuti si passano altro esercizio ma l'esecuzione deve essere impeccabile quindi movimento deve essere fatto veramente bene veramente bene lento controllato questa è la base poi per quanto riguarda l'alimentazione all'inizio perché mi avete chiesto ma le proteine integratori ho fatto diversi video sugli integratori non sono indispensabili all'inizio se si mangia bene ma per mangiare bene intendo macro micronutrienti carboidrati proteine grassi grassi buoni un 40 40 30 4 4 8 da 40 40 20 questa è la situazione attuale circa ok quindi non sono un dietologo però mi alleno da anni e ho trasformato il mio corpo cominciato a 14 anni che pesarono un 83 pesavo un 83 pesavo 60 kg quindi era un ragazzino del biafra in quattro anni cinque anni sono arrivato a 93 kg in quattro anni ma perché studio palestra studio palestra facevo solo quello però mi allenavo bene pesante grazie il tubo grazie per grazie quindi questa è una cosa basilare stare tanto in palestra l'ho fatto anch'io questo errore stare tanto in palestra non serve a niente va bene quindi gli allenamenti devono essere intensi devono essere brevi deve essere proficui una tabella mirata quindi una tabella dove oggi faccio questo dopo domani faccio quell'altro adesso arrivo al recupero il giorno dopo ancora altri gruppi 2 4 6 sono due una tabella base è stirata su due 4 6 due giorni allenamento due gruppi muscolari uno grosso uno piccolo lunedì mercoledì venerdì circa questo se avete necessità qui apre una parentesi ciao grande erzo visto solo adesso la diretta ciao fabio ciao alfa 33 ciao fabio ciao che se avete necessità comunque di una di una tabella allenamento scrivetemi non faccio pagare chissà che cosa facciamo due chiacchiere vi lascio il mio whatsapp scambiamo dei chiacchierini e vestire una tabella come si deve perché è basilare però poi avete il mio contatto whatsapp eccetera insomma vi seguo per gli addominali ho letto adesso la domanda per gli addominali è la dieta è inutile fare come dicevo anche prima stare tre ore in palestra fare 2000 addominali non serve a niente l'addominale la parete addominale è un muscolo come un altro quindi va allenato una due volte alla settimana ma come si dice gli addominali si fanno in palestra va bene cioè si fanno a tavola scusate gli addominali si fanno a tavola bisogna mangiare correttamente niente schifezzi niente porcherie proteine carboidrati proteine grassi va bene il recupero un muscolo va allenato una volta alla settimana ma va spaccato se io faccio oggi petto e bicipiti vado a massacrarlo bene ci ritorno su tra sette giorni al massimo sei ma il muscolo deve migliorare come fa sento persone che ho visto persone che vanno in palestra o si allenano tutti i giorni tutti i giorni è impossibile cioè così vai a creare un catabolismo anziché aumentare dimagrisci cioè perdi massa francesco paciullo ciao ciao quindi gli allenamenti devono essere intensi brevi ok per quanto riguarda l'addome questa è una domanda che mi fate spesso e quant'altro e si fanno a tavola per le ragazze per le donne per la parte inferiore io però ho 14 anni tu hai 14 anni comincia a fare le cose basilane chi ha iniziato a 14 anni si comincia a fare con la tua schedina base pian pianino mi saluti carmine savastio carmine savastio ciao carmine ciao carmine ai 14 anni anche io ho cominciato a 14 anni si comincia con le cosine basi con gli allenamenti base tranquilli tranzolli la postura diciamo la nostra panca piana la nostra pettora machine per il pettorale lato machine pullover pullover per cominciare ad ampliare un pochettino tra virgolette la cassa toracica c'è bisogna fare le cose tranquille senza sovraccaricare perché all'inizio ci si sente delle belve quindi non concordo in primis muscoli al giorno io ho delle app per esercizi lasciate stare l'applicazione applicazione l'applicazione ti può dare un'indicazione l'applicazione ti può dare un'indicazione però la scheda la scheda stilata da un professionista è un'altra cosa perché il professionista parla con te ti senta al telefono scrive prende giù i dati peso altezza sei fatto avuto incidenti ci sono una miriade di domande si fa un calcolo calorico per quanto riguarda un regime alimentare un piano alimentare e poi piano piano ci si segue il percorso ok quindi per quanto riguarda le donne che mi dicono però i fianchi lo stepper molte domande sul mini stepper che c'è un video che molto ha visto e seguito i fianchi non riesco a buttare giù i fianchi allora posso camminare si va bene una camminata ma è sempre il discorso palestra voi ragazze fate squat fate squat hip thrust fate esercizi può sembrare un paradosso ma vi assicuro che perdete perdete quel grassettino che c'è intorno dobbiamo creare muscolo perché le donne solitamente non non l'ho vista la domanda rifà ma io non vengo molto seguito cerchi di fare 4 che sono venite seguito sono venite seguiti chiedete consiglio a me ripeto a volte mi puoi dare un consiglio per me lavoro quindi vi chiedo una piccola cifra però vi assicuro che risultati ci sono quindi chiedete consiglio a me vi lascerò poi tutti i link questo qui diventerà un video tutti i link di riferimento qua sotto stavo parlando di donne il discorso donne fate allora io non vengo molto seguito cerco di fare cerco di fare da me in 4 ok vi siete persi qualcosa raga perché ciao simone simone corno ciao ti ho salutato vi siete persi qualcosa perché mi è passo google un attimo e quindi niente allora quindi stavo facendo il discorso delle ragazze mi raccomando allenatevi con gli attrezzi provate gli attrezzi provate un paio di mesi tre mesi poi non dico di eliminare il cardio però con la zumba i vari corsi si perde un po di peso sì però si rimane mollicci qua devo avere muscoli e la donna con il muscolo non è una roba che ciao 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 grazie ciao ciao ciri e quindi ribadisco con la zumba con la camminata con la corsa sicuramente si perde peso però i risultati migliori si si ottengono in palestra ho visto un video di roman che saluto ciao roman roman buonanno iscrivetevi al canale andate a vederlo un ragazzo molto in gamba io ho fatto un video appunto in quel video parlavo di dimagrire lui ha fatto quasi mi è sembrato quasi un video risposta no l'allenamento cardio fatelo perché allora serve però se andiamo a dire a un modi builder che fa l'olimpia che si deve allenare per il mistero l'olimpia di fare cardio questo ci ride in faccia perché dobbiamo fare senza nulla togliere qui esperienza io ho 30 35 anni 35 anni che sono nel settore quindi il libro sì ma poi l'esperienza però paolo paolo sarembre ciao il libro sì il testo di studio l'università va bene però poi ci sono altre cose che altre cose c'è l'esperienza che l'esperienza di 30 anni 35 anni devi spaccare le ossa le ginocchia articolazioni devi spingere in palestra e ho spinto per anni e sono arrivato a un certo livello adesso faccio mantenimento non me ne frega più niente faccio mantenimento quindi se vai a dire a un olimpia di fare cardio non devo che si mette a ridere lo fanno anche loro fanno i gradinoni gradini così tanto per tenere un po il cuore attivo ma non è quella la base quando ci si allena ci si allena con i pesi io quando mi allenavo che ero in massa non facevo niente ho avuto anch'io un preparatore nei tempi io sono arrivato un metro 80 io sono 1,87 sono arrivato a 97 kg ma tirato ok e quando ci si preparava per la massa il cardio non lo facevamo poi in periodo estivo che magari devi andare in spiaggia oppure devi fare nel suo caso nel caso del mio preparatore devi fare una gara allora cominciava il periodo di definizione ne introducevi la ciclette un mezz'ora due volte alla settimana per tirarti ma alla base quello che ti tira quello che ti asciuga è l'alimentazione abbassavamo il livello di carboidrati e alzavamo a palla a manetta il livello di proteine quindi io sono arrivato a mangiare 800 grammi di carne al giorno quel ragazzolino mangiava un chino un mezzo va bene senza parlare poi del discorso ciliegina sulla torta lasciamolo perdere che però se ci vogliamo allenare naturalmente quello è il discorso va bene quello bisogna spingere bisogna sudare in palestra questo vale sia per il pubblico maschile che quello femminile provate poi mi date del cretino ma comunque così è francesca pascuzza andate sul canale di francesca pascuzza da vedere qualche video cioè non dovrei fare pubblicità però siccome sono canali che seguo e vedo quello che postano che c'è scapa scuzza allena le ragazze e ci sono le foto su instagram prima e dopo ma le fa allenare non con la corsa ce ne fa allenare con i pesi quindi raga quello è il discorso va bene quindi ricapitolando sono al lavoro adesso non riesco a sentirti mica della linea ciao fabio poi questo dovrebbe rimanere un video te lo guardi poi dopo con calma e niente dicevo discorso di tempo quindi se siano le sessioni di allenamento sono tre volte alla settimana se siano allenamento di mercoledì mercoledì venerdì all'inizio possiamo fare un massimo di quattro ma poi ciao vabbè ti sono d'accordissimo con te io all'inizio restivo a fare palestra poi dopo aver esatto cioè provate provate anche nel ciclismo vogliamo fare un accenno al ciclismo ciao giuseppe messaggio giuseppe non vedo il commento però anche nel ciclismo avete chiesto eccetera eccetera il ciclismo la bicicletta io se voglio allenare le gambe che non ho tempo utilizzo la bicicletta appendi la bicicletta al chiodo non è vero allora io posso esco una volta la settimana magari in bici ma poi due volte mi alleno in palestra cioè dopo priorità alla muscolatura ma le gambe devono girare sulla bici ad un certo livello quindi quando io ingreno la marcia non sono cioè devo girare con rapporti pesanti dove faccio comunque fatica alterno un po giro in maniera pesante e un po in scioltezza per parlare semplicemente in soldoni e poi gli allenamenti sono di un'ora un'ora e mezza di più altrimenti poi non riesco ad allenarmi in palestra ma di base faccio per esempio posso fare io il mio allenamento è petto bicipiti e tricipiti primo giorno pettorale e bicipiti e tricipiti spalle inizio con le spalle perché il mio muscolo garanti quindi spalle e dorsali addominali e stretching sempre quelle due volte poi una volta alla settimana o vado a nuotare o vado in bici per allenare il treno inferiore le gambe ti puoi salutare x che riscrivilo perché non ti ho visto ciao comunque ti saluto saluto tutti quando è il caso di uscire di straps cosa vuol dire riccardo cioè quando è il caso di di straps di usare gli straps non ho capito e rifammi la domanda perché non ho capito e poi anche l'altra ma 800 grammi di carne al giorno non è dannoso per la salute sto parlando chi è diego diego sto parlando perché è chiaro che poi si prendono gli epatoprotettori sto parlando di un certo livello sto parlando di gare di se vuoi andare in gare non sto parlando di gente comune persone come noi cosa ne pensi di nordic walking come allenamento invernale si va bene il nordic walking con le va benissimo con i bastoncini però va bene a livello che come cardio ma pesi meglio cristian picceni ciao quindi diamo priorità a quello va bene io penso di essere stato esustivo stavo facendo un riassunto e avevo detto come mi alleno io tempi di recupero cioè i giorni alla settimana tre va bene mi avete fatto notare la carne ho fatto un esempio ad alti livelli la carne ad alti livelli ma la carne va bilanciata ok io sono arrivato a mangiare 800 grammi di carne perché dovevo avevo uno scopo sono andato vicino alle gare eccetera eccetera quindi ma una persona normale deve fare tutti i controlli ok contattatemi dopo vi lascio i riferimenti qua sotto allenamenti non esagerati non stiamo tanto tempo troppo tempo in palestra perché se no andiamo a catabolizzare non ci porta da nessuna parte i giorni sono quelli l'alimentazione in primis carboidrati proteine grassi deve essere tutto bilanciato il riposo dormire perché sennò siamo da mangiare incoglioniti non riusciamo a recuperare ciao e che attrezzi consigli comprare per allenarsi da casa per allenarsi da casa basta una panchettina una panca una panca inclinabile possibilmente un paio di manubri e un tappetino per fare gli addominali si fa tutto se volete metterci anche un bilanciere con quattro cose vi potete allenare si comincia così panchettina un paio di manubri e un bilanciere tappetino per terra basta quello poi alimentazione va bene io spero di aver detto tutto questo dovrebbe rimanere un video e quindi ve lo riguardate i consigli degli esercizi da fare a casa quando non si può mi iscrivi ti scrivo ci riproverai a fare la sfida dei 300 e ce l'ho qua ce l'ho qui perché ho visto un video visto un video di triathlon di una ragazza brasiliana e tocca questi qui partono al mattino finiscono la sera fanno 5 chilometri di nuoto 180 chilometri in bici e 42 chilometri di corsa e non ce la posso fare probabilmente riproverò era una questione di testa quel giorno lì non c'era poi a dire la verità ero anche caduto quindi nel video non si è visto ma mi ha demoralizzato molto è uscito anche sangue quindi probabilmente anche quello ha influito ma è probabile che ci riprovi non lo so ma si fanno si possono fare anche a me è piaciuto molto il triathlon vabbè ragazzi io vi saluto vi mando un salutone ci rivediamo alla prossima spero che c'è venezio florenzo e già 26 minuti 27 che stiamo parlando piscuano grazie edoardo altrettanto va bene spero di riuscire a chiudere ci vediamo alla prossima ciao e la prossima ciao ciao a chi non è iscritto iscrivetevi al canale ciao carmine un salutone fatti bravi e spingete forte sempre ciao ezio ciao fabio ciao fabio cali scherzavo ma edoardo non ti preoccupare alla prossima ciao